Ladies and gentlemen, benvenuti in questo nuovissimo video della serie di Brawl Stars quest'oggi andremo a sperimentare un po' di brawlers nuovi un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, tenete la campanellina io vi auguro una buona visione ed eccoci qua, dopo l'ultimo appuntamento in compagnia di Lollo ho sbloccato un nuovo grado di maestria con Frank che ci garantisce 750 monete che prendiamo e mettiamo in saccoccia i premi in realtà sono ancora tantissimi ma quest'oggi non utilizzeremo Frank andremo sicuramente a sfruttare i nuovi brawler che abbiamo sbloccato recentemente come ad esempio Edgar che mi avete detto essere veramente devastante è livello 1 magari possiamo investire un po' di punti energia e un po' di monete per portarlo almeno a livello 7 e dargli il gadget vediamo eh, è già arrivato a livello 3 con questo lo portiamo al livello 4, 5 con questo al 6 e con questo al 7 ok, abbiamo già fatto un po' di upgrade per il nostro Edgar vediamo quali sono i gadget che potrebbe avere a disposizione adrenalina la super di Edgar viene caricata il 525% più velocemente del normale per 4 secondi oppure scudo da duri Edgar ottiene uno scudo che protegge 2640 punti danno successivi all'attivazione del gadget lo scudo si indebolisce con il passare del tempo ci sono 3 usi per scontro allora c'è da dire che caricare la ulti è sempre molto buona come cosa ma uno scudo che ti dà della vita extra potrebbe svoltare la partita tanto prima o poi vogliamo sbloccare tutti i gadget per tutti i brawler quindi intanto mi acquisto lo scudo da duri e glielo equipaggiamo vogliamo spulciare un attimo le skin che ci sono oh mio dio ma è molto carina questa no, non voglio provarla questa bella demoniaca altrimenti argenteo non ci interessa Edgar Mecca eh, molto carino sicuramente Edgar Ladrone con il tappeto di Aladino anche questa è simpatica ma costa 200 gemme quindi per adesso direi di evitare allora non conosco questo brawler quindi facciamo rapidamente una prova 5280 punti vita ok attacca da vicino ricarica molto velocemente l'attacco e invece immagino che la ulti sia da lontano ah saltiamo in testa questa è la ulti quindi la nostra ulti ci permette di jumpare in testa ad un avversario ok potrebbe essere interessante nelle modalità in cui face upiamo le persone come quella del calcio cioè il top è avere massima vita gli saltiamo in testa e poi shottiamo certo che un po' di vita in più farebbe particolarmente comodo che ne dite? dai lo portiamo a livello 8 ma solo perché mi avete detto che è veramente molto forte come brawler selezioniamolo andiamo un secondo nel negozio perché avevo visto che c'era qualcosa di interessante come ad esempio 1000 monete 800 punti energia direi di prenderli immediatamente per solo 59 gemme fanno sicuramente comodo 15 monete gratuite 1000 monete a 29 gemme queste ci servono per acquistare comunque gadget e potenziamenti punti energia in regalo per il giorno non li lasciamo lì il doppio dei punti exp non ci interessa per adesso vediamo quali sono gli eventi della giornata sopravvivenza footbrawl raffagemme dominio ko annientamento va bene io direi magari che nei prossimi giorni potremmo provare addirittura una classificata e vedere come funziona facciamo sopravvivenza per iniziare dai in singolo anche se questa mappa si chiama il paradiso dei cecchini abbiamo capito che edgar in realtà è un brawler corpo a corpo molto vicino ognuno per sé chissà se oggi è il giorno delle 10 vittorie consecutive intanto provo ad andare addosso a questa tizia gli abbiamo già fatto male anche lei ha fatto male a noi scudo boom squagliata molto bene questo ce lo portiamo a casa subito ricarica veramente in fretta gli attacchi eh questo edgar mi riattivo lo scudo e andiamo a scioglierlo cosa ho fatto no cosa ho fatto ho sbagliato mi rubano la kill mi rubano palesemente la kill però se non era ucciderlo bene abbiamo già 5 potenziamenti per vita ma soprattutto danno siamo a 6 sempre attenzione a face check i bush che potremmo fare una brutta fina una brutta fine magari una fina occio occio oee no 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 calmi calmi scontro finale attenzione perché vedo che frank non ha moltissima vita stava scappando gli saltiamo in testa forse non se l'aspettava lo dovremmo riuscire a uccidere sì luis eduardo a casa 10 trofei così iniziamo a salire anche con il rank del nostro edgar sarebbe fighissimo vabbè oltre a trovare qualcosa di clamorosamente devastante tipo 100 punti energia che ci fanno comodo riuscire quest'oggi a raggiungere i 4000 trofei ce ne mancano 76 non è impossibile soprattutto se rimaniamo in streak di vittorie se facciamo quella da 10 io già sono contento allora abbiamo un shalom là sotto e mi sa che punto prima a prendere dei punti energia che ci fanno comodo shalom mi tiro lo scudo eliminato ok addio è nel cespuglio l'ho visto gli vado in testa pam 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 eliminato senza neanche usare lo scudo extra del gadget fantastico molto bene ci stiamo divertendo però adesso si stanno sbagliando tutti in scioltezza serie di vittorie stiamo salendo con la soglia del nostro edgar che mi avete consigliato voi di sbloccare molto molto bene abbiamo sbloccato qualcosa qua sì fighissimo apriamo uno star drop è super raro punti energia vanno sempre benissimo un emote che probabilmente non utilizzeremo mai se arriviamo a 4000 gli compro una skin al nostro edgar scusatemi ovviamente se non conosco ancora i nomi di tutti quanti i brawler però come sapete ho ricominciato a giocare da non tantissimo tempo questo dovrei riuscire a eliminarlo fantastico l'hai voluto tu eh hai iniziato tu a colpirmi cosa vuoi questo cos'è vai eliminiamolo subito ah siamo già allo scontro finale ma porca cazzozza mi vado oh abbiamo avuto la stessa idea oh questo coso vola dovrei riuscirci lo stesso bene ah lo scudo extra sembra veramente molto forte soprattutto in questi combattimenti serrati uno contro uno molto molto bene a morire che c'è da sempre 88 punti esperienza che sembra fatta apposta dai mancano 50 trofei ai 4000 so che sono pochi che qualcuno mi ha scritto nei commenti ste ma io ho 35.000 trofei lo so però io non giocavo da tantissimo tempo abbiamo ripreso il gioco da qualche giorno capite che serve un attimo di ristabilizzazione anche per conoscere per bene tutti i personaggi e tutte le loro abilità ehi è il primo oddio è il primo è arrabbiato sembra molto arrabbiato ce l'ha con me a 9600 punti vita che non sono pochi guardalo guardalo grazie vi avevano liberato gentilissimo ora vi lascio combattere fra di voi no e no e no vieni vieni se vuoi chase armi io sono pronto eh ho messo lo scudo eliminato devo scappare se non muoio oh cos'è quel piccini eccolo che mi segue molto bene no devi morire oddio oddio avevo rischiato un botto oh mio dio meno male non è finita non è finita oh mio dio pensavo che fosse lo scontro finale non se l'aspettava non se l'aspettavo l'avevo visto entrare abbiamo la ulti che caspita ti fa un salto assurdo altri 10 trofei in saccoccia meraviglioso piano piano possiamo salire di rank con tutti i brawler che abbiamo e continuare a sbloccare ricompense così da non dover scioppare comunque costantemente un po' di monetine queste fanno sicuramente comodo questa è la quinta partita giusto stiamo devastando tutti poi possiamo provarlo anche in un'altra modalità solo che mi fido molto più di me stesso che degli altri quindi mettermi in squadra con i personaggi casuali con gli avversari casuali e compagni casuali ovviamente non mi fa impazzire come idea oh cavolo se fa male fa malissimo però è arrivato dietro il mucciador lì non è un mucciador poi cosa vuol dire mucciador ehi no 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 è buono lì sta a tenere il tuo ehi ehi non muore non ci credo sta scappando maledetto recuperiamo un po' di punticini muoio qua no non muoio qua perché me ne scappo via cos'è questo fantasmino niente non è nulla no raga si sono uccisi da soli impazzisco impazzisco come è potuto succedere forse con gli esplosivi abbiamo vinto senza muovere un muscolo questa partita praticamente 3974 raga possiamo arrivare a tutti gli effetti a 4000 ve lo dico spero di non aver jinxato il tutto che ce la siamo gufata magari no dovrei riuscire a prenderlo vieni qua vieni qui scendi dal trespolo non mi ha mai colpito flip è finita addio sarebbe figo ricevere più trofei in base a più uccisioni trofei più kill ti meriti più trofei perlomeno per quanto mi riguarda avrebbe senso il tipo è qua dentro ehi vieni qui scontro finale 11 power up non sono pochi bisciottiamo le casse fate voi qua l'unico problema è se veniamo stunnati o colpiti da lontano in realtà dov'è l'ultimo tizio dove se la starà accamperando e non c'è spuglio beh se posso evitare di face check cercare quelli laterali meglio me ne sto qua dentro nell'erba alta come i pokemon aspettiamo che si chiuda il cerchio col gas eccolo non se l'aspetterà mai come prima come prima ragazzi eccomi pam 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 e siamo a 6 vittorie di fila con nuovi 10 trofei stiamo scalando la vetta beh non mi fermo cioè proseguo ragazzi ne mancano 11 e saliamo a 4000 così compro la skin e poi cambiamo modalità giusto per mettere a repentaglio la streak di 10 buonissime quelle 3 casse dobbiamo trovare a tutti gli effetti i modi per prendere cioè subito subito buono che se ne va dall'altra parte ci lascia in pace qui buono buono triplo triplo e tanta roba mi prendo pure questo scegli andata a nascondersi nel cespuglio la ignoriamo per adesso c'è il primo là che si sta curando io continuo a farmare dai oh ha fatto male però mi sono completamente parato grazie allo scudo essenzialmente muori vado dal primo vado dal primo dai addio distruggo tutti oh qua c'ho una poca vita eccomi ho preso un'altra kill guarda come se la scappa si 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 ti piacerebbe assai lo sai che tra poco posso saltare sei morta e ora come la spieghi scontro finale 1 v 1 abbiamo lo scudo so abbastanza con certezza che lui è nell'erbaccia al centro non voglio rischiarmela abbiamo 10.000 di vita raga con edgar prima ne aveva tipo 6.000 massimo vabbè giustamente abbiamo 11 power up vado sapevo che salto in testa a qualcuno con questo brawler non è che possano farmi molto contro gli avversari cioè completamente squagliati è probabile che superiamo le 4.000 esattamente e andiamo 4.000 superate portiamo avanti bea anzi la completiamo del tutto molto bene passa tutta la giornata ad osservare gli insetti immaginando come sarebbe se fosse una di loro o capisse quello che dicono tiratrice scelta quindi probabilmente lei colpisce da molto lontano abbiamo sbloccato tic tra l'altro oddio 1000 punti energia per 49 gemme sai che li prendo li prendo a tutti i costi e l'avevo promesso se fossimo arrivati a 4.000 che era abbastanza chiamata come cosa compravamo una skin io opterei per il ladrone è fighissimo cioè ricorda un po' tara eh in queste vesti dai 199 gemme che abbandonano le casse di stepney let's go abbiamo la skin edgar ladrone bellissimo abbiamo sbloccato tra l'altro salendo prima di livello la possibilità di acquistare un power up rigenerazione della salute più danni più danni ci aiuta a squagliare chiunque super carica cavolo questo costa 1500 addirittura però ci dà il jump molto più spesso aumenta di uno in uno di gadget no questo non ci interessa adesso dal brawler uno scudo danneggiabile a 900 punti che si rigenera in 10 secondi quando il brawler ha la salute piena quindi in questo caso col gadget abbiamo uno scudo da più di 3000 3700 di scudo che non è male essendo praticamente la metà della vita di edgar la velocità potrebbe essere interessante ma ora no allora sono indeciso o il danno o la super carica o lo scudo di difesa dai optiamo per il danno stavolta mi prendo il danno glielo diamo tra l'altro posso portarlo anche al 9 facciamolo facciamolo super di edgar causa anche 1215 punti al nemico cosa ok edgar recupera il 25% in più di salute dai colpi che mette a segno cioè praticamente life steal devastante devastante inizio a capire sempre di più perché mi avete detto che questo qui è un brawler clamoroso ho fatto ripartire una solo arriviamo ad 8 vittorie se riusciamo e poi proviamo le altre modalità voglio provarlo nella mappa con le cassaforti perché secondo me già il fatto è che puoi saltare i tuoi avversari e fare danno no no non abbiamo sbloccato quella del danno è vero abbiamo sbloccato quella che ci curiamo che secondo me è molto più forte vieni qui robottino robottino sei morto eh piccolo bender ubriacone KO in tutti i sensi quindi quando questi colpi vanno a segno su un brawler ragazzi dovrebbero curare del 25% che è clamoroso che è clamoroso guarda sono full vita sono full vita se mettiamo anche il power up del 10% di ricarica in più della ulti che ho già di nuovo è assurdo non ho attivato manco lo scudo scontro finale piccola lavatrice sì sì vieni bello te distruggo siamo full vita perché ci curiamo quando facciamo danno ma non ha senso ma è fortissimo veramente cioè edgar è rotto completamente rotto lo portiamo anche al livello sì soglia 8 non livello 8 8 serie di vittorie abbiamo sbloccato anche uno star drop super raro con i punti va benissimo va bene così no 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 esci 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 ho sbagliato ho sbagliato non posso uscire non posso uscire eh ragazzi ho provato a cliccare esci ma non si poteva cliccare avevamo detto che avremmo giocato l'altra modalità ormai però se siete d'accordo con me azzarderei quasi a fare una win streak di 10 in solo cosa penso di fare scusami eh no eh no bello mio ho eliminato non puoi fotere con step sta arrivando quello che lo pisce è lontano quindi stiamo attenti non distruggiamo quelle lo frego così dovrei curarmi dovrei riuscire a eliminare ok abbiamo di nuovo la ulti praticamente 4 in vita non facciamo scemenze quello sa tutto non lo so se sa tutto però mi ha schivato bene ma non benissimo raga scontro finale è lì dentro ok secondo me abbiamo fatto bene a tornare indietro eh non se l'aspetterà mai se gli salto in testa raga non se l'aspetterà mai sa tutto sa tutto guardalo eccomi eccomi l'ho missato oddio abbiamo rischiato un botto abbiamo rischiato di morire da questo qui continuiamo a macinare cioè l'avevo già portato alla soglia 9 se pensate frank era al 15 giusto quindi tra poco no non c'entra niente niente fate finta che io non abbia detto nulla raga se vinciamo questo uno scontro da soli siamo a 10 win di fila tutte con edgar appena iniziato a utilizzare è un bel picchiaduro eh easy siamo già a 4 ottimo potrei andare la sopra volendo o anche qua easy eliminato oi oi e io non posso inventarmi tante cose da lontano qua dobbiamo arrivare faccia a faccia cosa mi fai le motte ahia uh schifato tutto senza volerlo almeno sono sincero raga eccomi è finita amico 1v1 scontro finale con 11 power up per la decima win consecutiva e rafk raga vieni vieni bello oh no 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 oh no 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 ha un solo power up ma fa male fa molto è arrabbiato è infuriatissimo e io aspetto adesso tanto lui è costretto a venire verso di noi in ogni caso ciao bravissimo bella mossa complimentoni 10 vittorie consecutive sei così e andiamo ok basta giocare in solo cambiamo modalità dominio questa non l'abbiamo mai fatta probabilmente quindi ci sono delle postazioni da dover conquistare che ti fanno guadagnare dei punti il centro esattamente il centro ricordiamoci che non siamo molto tankosi eh va bene lo scudo va bene tutto ma non siamo molto tankosi entra nel presidio oi maledetto eh l'hanno preso loro lo stanno prendendo eh vado dovrei curarmi molto bene oddio oddio cosa abbiamo fatto dobbiamo conquistarlo tutto tutto quindi ok con calma scudino qui proviamo a squagliare oddio che male che abbiamo fatto raga credo che fosse una triple kill e non li vedo messi bene gli avversari soprattutto se si dividono io posso addirittura fare di questo andargli dietro ciao vieni qua corvetto eliminato eh siamo quasi al 60% la situazione è a nostro vantaggio vorrei evitare di morire se fosse possibile gli faccio la giocata gli vado dietro schivato la ulti del corvo che goduria raga sono il migliore della partita per forza eliminato di nuovo il corvo schivato questo eliminato di nuovo raga ho fatto tipo 14 uccisioni what the hell sono io un demone o cosa cioè qua guarda che roba 11 kill 0 morti cioè praticamente ho carriato la mia squadra ho fatto più danni della squadra avversaria messa insieme probabilmente se unisci i danni anche a quelli della mia siamo lì 11 win consecutive godo posso godere grazie cioè non è per niente male questo brawler in questa modalità però adesso contro di noi non c'erano dei grossi tank adesso c'è il primo c'è tara e poi c'è il bombarolo pazzo che non mi ricordo mai come si chiama forse mike non ne sono sicuro però eh no abbiamo un fk ok si è svegliato bene 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 occhio che sono tutti al centro buono 3v2 possiamo andare ragazzi dai 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 insisti 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 che muore anche tara bene hanno già preso il 14% lui tira le granate eh beh bella mossa bella mossa oh è il primo si è affiondato in the middle ma non basta ricordiamoci che quando faccio danni ai brawler mi curo del 25% dei danni che faccio occhio alle granate non li facciamo neanche entrare raga manco entrare eh ma se continuano l'approccio uno per volta state tranquilli che non possono manco metterci i piedi qua dentro cioè uno per volta li squagliamo cioè totally demolished vieni qui bello dove vai ho salvato anche il mio compagno che dovrebbe essere bull ok ho fatto un botto di danno il tipo a me mi scudo mi scuso no mi scudo mi scudo ah oddio ragazzi ho riuscito a fuggire dalla situazione meschina grazie alla ulti eh attiviamo questo eliminiamo tara mamma mia poverini annichiliti annichiliti non sono quello che ha fatto più uccisioni stavolta ma va bene lo stesso eh 12 win consecutive cioè se continuiamo di sto passo ragazzi cioè lo portiamo al 20 il nostro Edgar siamo già a 4075 trofei si scala si scala molto bene ancora una modalità dominio poi proviamo qualcos'altro tutti dentro subito ma i nostri avversari che giro hanno fatto ma che giro pesca è Frank calmo Frank sei morto esploso ho schivato la ulti di Frank molto bene di nuovo lo rifacciamo dietro Frank eliminato cioè tutte le volte che gli saltiamo dietro in quel modo lui non può farci praticamente niente perché lui crea un cono in cui stunna con la ulti e comunque anche l'attacco base e il cono se ti piazzi dietro di lui lo annichi lisci ho detto oh queste carte fanno male posso non morire mai posso davvero raga stiamo facendo quasi 100% rimetto lo scudo per sicurezza vado dietro Frank l'altra volta mi faceva l'ulti vieni vieni quello è rimasto con uno di vita si è salvato dalla mia kill beh pazzesco mai morto nessuno della nostra squadra quindi può anche darsi che gli avversari fossero un po' scaciotti diciamo le cose come stanno se noi lo usciamo solo noi stessi proviamo vediamo 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 annientamento però se moriamo non rinasciamo più potrebbe essere pericoloso va bene dai lo facciamo lo stesso annientamento speriamo di non interrompere la streak positiva di vittorie questi sono tutti i mezzi rankati non so se vedete io non conosco ancora i rank dobbiamo fare 10 uccisioni io potrei anche starmene tranquillo qua ricordiamoci che io combatto solo esclusivamente da vicino vado da lui morto primo andato ci vuole un po' caricare la ult vado qui ehi ehi posso saltare posso saltare vado non vado 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 adesso eliminato andiamo su di lui eliminato anche grazie all'orso che è un panda in realtà 4 a 3 oh non cantiamo vittoria perché i miei compagni si stanno facendo ammazzare spesso oh uno di loro è afk vado non era afk ha mentito mi stava cercando di baitare ma l'ho ucciso lo stesso occio occio lì no 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 mio compagno si è fatto eliminare però dobbiamo prendere kumax dobbiamo prendere questo lo eliminiamo probabilmente anche lui ciao double kill vieni qua triple kill scappo via buono sei finito nella trappola del topo mamma mia ragazzi non sono mai morto mai morto cioè guarda qua che giocata tum 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 perché mi curo un botto di vita 9 kill su 10 what the non mi ero neanche reso conto ma è un demone questo brawler fortissimo fortissimo grazie di avervelo consigliato grazie mille sono contento di averlo preso dovremmo anche salire di livello nel pass vediamo cosa si sblocca 2000 monete 2000 monete ragazzi è tanta roba 100 bling abbiamo anche tai no star drop raro va bene c'è un altro star drop però da aprire lo apriamo subito si reaction sblocca pure star drop epico va bene va bene lo stesso tra poco avremo sbloccato thick no non voglio sbloccarlo subito stai calmo cioè non ti agitare brawler torniamo qua un secondo perché è veramente fortissimo il nostro caro edgar vediamo se riesco a trovarlo dynamike comunque non c'era andato tanto lontano dov'è allora raga vi dico sono tentato di portarlo al 10 è clamoroso dai lo portiamo al 10 così gli diamo un altro potenziamento raga se gli posso mettere anche lo scudo extra o addirittura che la super mi si ricarica più in fretta cioè iniziamo ad essere qualcosa lo siamo già però secondo me non muore più non muore più questo coso cosa facciamo questa geju la super viene caricata eh ma tanto devo attivarli io i gadget meglio meglio non metterne troppi rigenerazione della salute è più efficace del 50% anche questo secondo me non è per niente male sono indeciso ragazzi sono indeciso adesso fra la difesa e lo scudo cioè salute o difesa 900 punti salute sono tanti si rigenera in 10 secondi quando abbiamo la salute piena quindi vuol dire che possiamo tankare molto di più partiamo però già di base con questo scudo di 900 in più dai l'ho messo l'ho messo basta l'ho messo l'ho messo l'ho preso l'ho preso andato l'ho preso basta 14 vittorie consecutive ne proviamo un'altra che arriva prima a 10 uccisioni vince stavolta dovremmo entrare in partita con un extra scudo di 900 che su 6.000 qualcosa è tanto veramente tanto perché il mio compagno spamma cose a caso ehi e questo è andato è venuto a morirci in faccia ok è rimasto pochissima vita morto Michele bravissimo Michele bravissimo eccomi vado a pensare di fare tu scusami vado subito su di lei ciao eliminata eliminato sono on fire sto prendendo un botto di danni ma squaglio tutti e mi rigenero mamma mia mi butto eh bam allora secondo me potremmo anche considerare l'idea di mettere la ulti oi questo ci ha colpito da lontano non voglio morire sono riuscito a scappare raga un 430 di vita se riesco a non morire neanche in questo game questo brawler è il più potente per adesso che abbiamo mai provato allora tara non so se sa ma io vado easy doppia kill vado su di questo easy vieni bello oh mio dio oh mio dio raga la miglior giocata quale sarà eccomi lì una kill due kill salto indosso a kakita eliminata anche kakieta 8 kill su 10 cioè non non faccio per dire eh sto letteralmente trainando la mia squadra se facciamo altre 5 vittorie siamo a 20 abbiamo raddoppiato il nostro obiettivo questo brawler è completamente rotto vogliamo provare anche un footbrawl dopo potrebbe mettere a repentaglio tutto eh però ci può stare qua c'è gente rankata io sono a rank ovviamente via si parte sempre stessa mappa ovviamente è figo sta roba che però tutti i giorni ruota cambia ogni volta ci piace oh io ho rischiato tanto eh ho rischiato tantissimo eh se il coraggio lo fai se il coraggio lo fai mi curo mi curo non hai capito forse boom polaso polaso ehi pipistrelli all'aria 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 kill elimino anche questo probabilmente ho creato due colpetti al volo ma sti cavoli eccomi qui addosso a te distrutto how much fort con tu fort mi salta addosso e viene letteralmente distrutto ho poca vita adesso no non mi far morire per favore eh non mi far morire voglio mantenere questo incomio siamo a 8 kill raga eccola l'ultima che arriva ecco l'ultima che arriva ciao ciao mai morti raga mai morti anche stavolta 7 kill di 10 non so cosa dire avevamo un Edgar anche contro ragazzi eh 16 vittorie stiamo per raggiungere la prossima soglia con un nuovo star drop da aprire attenzione perché qua abbiamo delle gemme del pass battaglia che prendiamo in saccoccio ovviamente aspetta per lasciarle lì è rotto raga questo Edgar mi piace particolarmente lo proverò probabilmente anche nelle ranked poi per vedere come ci qualifichiamo qui io parto subito con lo scudo potenziato c'è un altro Edgar c'è un altro Edgar ok non so che potenziamenti abbia lui mi sono messo lo scudo sta scappando giustamente sta scappando vieni dai oh mi ha rotto lo scudo siamo sotto siamo in svantaggio raga siamo in svantaggio aia aiaiaiaia aia aia non bene eh non bene non bene siamo sotto no eh tanto iniziamo a fare così adesso arriva il comeback di Stepney vieni 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 bene due kill tre kill quattro a tre the comeback is real e quella Gegio mette quelle robe in terra che è fastidiosissimo però eh più teamwork più teamwork serve teamwork qua vieni vieni dai vieni eliminato eliminato double kill cinque pari posso andare su quello devo andare su quello devo eliminato no uno di vita uno di vita no è scappato con uno ok mi sono tirato lo scudo perché sennò facevo una brutta fine no no ho sbagliato tutto 9 a 10 ragazzi non morite per favore ok 7 a 9 serve un miracolo qua eh eliminato 9 a 8 per favore non interrompete la mia streak no 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 ho ucciso me no 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 la streak positiva se ne va raga ho fatto sono l'unico che ha fatto uccisioni 8 kill 8 i miei compagni sono solo morti no way la streak positiva è stata interrotta chiudiamo la giornata con foot brawl ci sta ci sta anche il basket non era male vediamo come si comporta questo personaggio in questa modalità e teoricamente col salto non siamo messi neanche male perché possiamo raggiungere punti interessanti qui vado diretto in the middle ok vabbè così ma più in scioltezza 1 a 0 no stepney ha segnato eh sì vabbè qui scudo immediato nel mezzo spammi tutto devastati oh mio dio fortissimo fortissimo perché con tutti i danni che faccio se loro si mettono tutti vicini cioè capite devastante devastante dai almeno 3 le facciamo eh 3 di foot brawl e poi chiudiamo il video dovrei riuscire ad arrivare anche alla soglia 13 penso che il massimo sia 35 può darsi cioè io parto mi metto subito lo scudo vado in the middle vado aggressivo perché tanto capite che cioè mi curo un botto di vita e qua ci muoio ma ci muoio non è vero ho ucciso frank vado sì certo cosa pensavi di fare scusami vai segna vai segna e il problema di frank è che è molto forte però quella roba che spara in un cono limitato lo penalizza un botto mi ha devastato mi ha devastato ehi no ecco la super caricata frank maledetto easy easy presa non devo morire easy 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 ho la super eh ho la super che significa che posso fare un gol pazzesco sì quello ha tirato l'ultima malissimo gli passo la palla a lui vado davanti tum eliminato tum tum eliminato tum tum no l'ho ucciso ma il pallone è andato da un'altra parte no dovrei riuscirci lo stesso raga beccati sto gola no me l'ha presa no dai 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 che andiamo a segnare mi fiondo eh mike eliminato oi mi uccide lo sapevo lo sapevo no 3 2 1 ti prego dimmi che basta dimmi che basta prendila no 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 babba prognagnum no 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 e niente con questa sconfitta direi che possiamo chiudere era veramente no dai ma mancava un pelo arrivare alla soglia 13 dai dai in un colpo solo eh tutto in un colpo solo e Ronaldo Rayquaza ma contro chi siamo raga ma che multiverso è questo prendo vado con lo scudo ok no col trenino sai cosa ci devi fare beccati sto gol easy dai nessuno può impedirmi di chiudere con una vittoria questo video eh dietro di loro non se l'aspettavano oh mio dio oh mio dio è la piazza e l'angolino in basso a sinistra raga no questa è bellissima questa è bellissima eh dai mi fa vedere quella del primo round ok no raga per 13 trofei per 13 trofei dai dai dobbiamo sbloccare quello step drop video XL anche quest'oggi su brawl easy scudo fondamentale rischio di morirci easy porta la via porta la via bravo bravo primo bravo palla nostra bravi è riuscito anche a fare gol ma come c'è un super tiro raga non dovrei morire pom raga ha distrutto tutto quello che c'era avevo fatto il tiro con la super caricata ha detonato tutto ha detonato ha detonato 9 trofei 9 trofei dai che ne manca uno la modalità in cui è più forte secondo me però dominio perché non gli permetti di entrare poi dipende anche ovviamente chi hai contro perché se ce ne sono tanti che combattono da lontano e ti colpiscono senza stare a range effettivamente cambia un po' tutto eh mio scudo è andato giù sono morto malissimo senza compicciare nulla uccidete Tomar per favore bravi sto tornando raga sto tornando I'm back I'm back primo vieni qui dai pallone là dietro ok ci penso io a lui faccio il giro di qua eeeh pensare se 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 no no stai indietro stai indietro sto facendo il giro oi no eh no bello mio no bello mio ehi vieni qui bello squagliato easy andiamo a far goal deve essere piuttosto facile mi sono buttato nella sono pazzo sono pazzo no come no dai guarda quanta vita no 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 ragazzi c'è da difendere qua eh intanto iniziamo a uccidere lui uno di vita vado là ucciso anche lui molto bene scudo dai lo facciamo questo goal o no gli ho danneggiato in botto non so se riesco a segnare oh l'ho presa sulla linea l'ho presa sulla linea raga easy c'ha la super velocità il tipo eh via di qua distrutto no 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 fermarlo 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 ucciderlo certo ti sarebbe piaciuto un botto vieni qui eliminato dai dai che c'è solo lui c'è solo lui puoi segnare segna tira tira oh mio dio me la stanno facendo sudare i miei compagni raga cioè c'era solamente il piccione lì madonna se lo dico per sbaglio solo perché mi curo ti piacerebbe un sacco invece muori piacerebbe anche a te invece muori faccio anche gol bam bam chissà se è la mia la giocata probabilmente si salto su quello devastato l'altro come è ucciso 9 kill il migliore eccoci qua raggiungiamo la soglia ah l'avevo già raggiunta la 13 ah no è vero la 13 l'avevo già raggiunta però abbiamo appena sbloccato l'ultimo star drop per concludere il video di oggi dammelo figo no è raro ma va bene va bene i punti energia fanno sempre comodo cari amici il video di oggi termina qua io spero che vi sia piaciuto edgar è davvero clamoroso fortissimo l'abbiamo portato su a livello 10 abbiamo fatto un sacco di trofei un bel pollicione in su iscrivetevi al canale tirate la campanellina e fatemi sapere quale brawler usare nel prossimo video nel prossimo video a step è tutto boni c'è la tentazione di portarlo all'11 altissima ma non abbiamo più gemme per adesso quindi boni è Grazie a tutti.